Spaccate il like, 100.000 mi piace pettatino Raga, passate da Instagram Si Se avete bisogno di crediti passate dal link di iscrizione Se mettete il mio codice coupon avrete un piccolo sconto Bella Bella ragazzi e bentornati sul mio canale Siamo qui oggi con un super big match Napoli-Milan con Sbucci Ciao a tutti Nini Allora ragazzi se il Napoli vince va a più uno dalla Juve Invece se il pareggio rimane così come la classifica Invece se il Milan dovesse vincere il Milan va in zona Europa League Comunque si parte subito alla grande Napoli è in casa quindi sarà una partita molto ma molto difficile per il Milan Ah ok Napoli è in casa ok La maglietta è bianca noi Yes Tutto pronto dal San Paolo Napoli-Milan super big match del lunedì sera Si parte David Lopez riconquista Subito Amsic Higuain Attenzione Higuain Higuain Parte il tiro Higuain Davide Lopez Via 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 Attenzione allontana Allontana molto livo Attenzione Balotelli ecco Isai recupera subito Higuain Attenzione Higuain con un numero ancora il Pipi No T'aggiro Dio l'ho visto dentro Attenzione Attenzione Bertolacci Non va meno male Vabbè Vabbè ci sta Palla Bertolacci è sempre nel vivo dell'azione Balotelli corri Attenzione Balotelli Balotelli si accentra Attenzione 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 il fisico Radereino Mamma mia Attenzione bacca Non sta facendo molto Attenzione all'allunga La puntina per Balotelli Col destro Che tiramenti Attenzione L'ha fermato Dalla difesa impeccabile del Milan In questa azione Difesa Attenzione bacca Ecco E sbaglia subito il passaggio E finisce l'azione del Milan così Però attenzione Sbaglia anche il Napoli Coulibaly Ok Menezze di opera palla Se ne Menezze Si esige a centrocampo Fa dei giochetti un po' inutili Attenzione Menezze di estregge anche In fase offensiva Menezze di trinaia Il tiro dalle reti 1-0 Per il Milan Casa del Svento Attenzione Anche la piola Per sbetteggiare È infermabile Attenzione Il mister ci vede giusto A levare la tribuna E a metterlo in campo Se riparte Dall'1-0 Amsic recupera Allora subito Per il Pipita Higuain Higuain Parta il tiro Higuain Attenzione Oh mi sta dentro Si accentra Con il fisico E non ce la fa Tutto regolare Molto bene Incredibile Arzione sbagliata del Napoli E riparte subito il Milan Attenzione Offensiva bestia Attenzione Balotelli Si restreggia Attenzione In mezzo Dei giocatori del Napoli Vede Montolivo Che non ce la fa Molto bene Molto bene qua Attenzione Attenzione Balotelli Dentro l'area di rigore Il tiro da fermo Non va Allora Amsic Amsic ancora Caillejon Bella che si vede Sciglio Finisce così Il primo tempo Probabilmente Attenzione Caillejon Ecco la larga Per Higuain Higuain Subito per Amsic Amsic Con un numero Amsic Amsic La larga Per i segni I segni I segni I segni 1-1 Il fareggio del Napoli Al 47 Sembrava finito Il primo tempo Agli sgocci L'ultima azione del Milan Ci prova dalla distanza Colibali E poi Isai Il primo tempo Finisce La attenzione Finisce qua Primo tempo 1-1 Al San Paolo Tutti sotto la doccia Partita Emozionante Anche se ha tirato Di più il Milan Però Tutto ancora aperto Spacca il like La parte del Milan Dopo la restituzione Boateng E Keisuke Honda Per Bertolacci Ha giocato una stupenda partita E Balotelli Che non ha brillato Si riparte Con il secondo tempo Attenzione Bacca Bacca ci prova In percussione Viene fermato subito Higuain Ancora Higuain Attenzione Higuain Con un numero Higuain 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 Forse un po' fallo E viene fischiato Fallo 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 Raga qua Insigne Lo sapete Dove è insigne Eccolo qua Qua Lorenzo il Magnifico È pericolosissimo Parte il tiro Insigne Lopes Sta ferma Con abbastanza facilità Attenzione Menesse è partito Menesse è partito Menesse è partito Attenzione lo vede Troppo forte forse Il passaggio di Menesse Attenzione Forse ce la fa Ma Reina Grande Reina Ah no Attenzione Palla del Milan No Come Ce la fanno anche Rioperare il pallone Per non prendere Un calcio d'angolo Importante Attenzione Attenzione Lo vede Al centro dell'aria Montolivo Che lo rivede ancora I due dialoghi Alla perfezione Esterno destro Bruttissimo Attenzione Albioli recupera Molto bene Subito Insigne Insigne È partito Insigne 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 Con un numero Ancora Insigne Attenzione Lorenzino Insigne Insigne Può andare Al cross In mezzo C'è Iguain In Vita Milan 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 In fase Intensiva Attenzione Palo Gol Anche fortunoso Qua Iguain 2-1 Napoli Attenzione Bacca Lentissimo Il giocatore Ma con il fisico Riesce Ad omessere Comunca Difese del Napoli Non ce la fa In realtà Attenzione Attenzione Rischia Attenzione Forse con un po' Di fallo Ce la fa Prendere palla E non segna Incredibile Il portere del Napoli Sta prendendo tutto Ragazzi Allora Attenzione Perché Iguain E' partita Iguain C'era anche fallo Ma si prosegue Iguain Iguain Se li fa fuori Tutti E poi fermato Da Decide Riparte Decide Riparte Forse un po' Fuori gioco Eccolo lì Non riesce a prendere Il cartello Attenzione Allora Reina Rinvia Cercare Allan Lo trova molto bene Subito per Amsic La larga dove c'è Goulam Goulam subito per Lorenzino Insigne 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 Se ne va In mezzo c'è Iguain Insigne Iguain Umam Calcio d'anno Attenzione Allora Insigne Vado alla bagnerina In mezzo Attenzione Attenzione A David Lowe Abate non far cagate Attenzione Zappata Vede Abate Che entra invece Di andare verso la fascia Attenzione Spiazza tutti Con questa mossa Ecco anche con questa Attenzione Menesse Attenzione Viene attaccato Attenzione Menesse Però viene visto anche Jack Buonaventura Non va Goulam subito per Davide Lopez E finisce Finisce qua Game over al San Paolo Partita forse Che meritava un pareggio Forse Finisce così Con un 2-1 a Napoli Una super partita Io ringrazio Sbucci Per questo super big match Grazie a te Tino Ovviamente qua sotto Voi dovete pronosticare Il match Per i chi fa voi Invece sulla pagina Di Facebook Da Tattino E Sbucci è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Spagate il like E bella Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao